Una maggiore organizzazione del servizio di spazzamento nei centri storici del comune di Castellabate è quanto richiede il consigliere di minoranza Luigi Maurano, in particolare lo svolgimento del servizio di pulizia e svuotamento cestini nelle ore serali presso le aree pedonali, soprattutto su lungomare Perrotti e nel corso Matarazzo a Santa Maria, nonché la sostituzione dei cestini presenti nei medesimi luoghi con altri maggiormente capinti. Ciò è ragione del fatto che i cestini posizionati sul lungomare Perrotte e nel corso Matarazzo a Santa Maria ogni sera risultano insufficienti per numero e capienza a contenere rifiuti prodotti, con conseguente formazione di cumuli di bottiglie di vetro, bicchieri di plastica e qualsiasi altro elemento nelle loro vicinanze. Tale situazione non solo crea pericolo alla pubblica incolumità, ma offre anche un'immagine poco consona ad un comune turistico e ricco di bellezze naturali. Era il 6 aprile scorso quando l'amministrazione, nell'illustrare i miglioramenti che si sarebbero ottenuti con l'affidamento del servizio spazzamento alla Castellabate Servizi, assicurava che le aree pedonali del territorio avrebbero avuto una pulizia mattutina, pomeridiana e soprattutto serale, perché il decoro passa attraverso la pulizia del centro. Parole loro testuali, ha dichiarato il consigliere Maurano. A luglio ed agosto, invece, ogni sera sul lungomare Perrotte, nel Corso Matarazzo, la scena che si presenta è quella di cestini stracolmi, piccoli cumuli di bottiglie e quant'altro nelle loro vicinanze. Sottolinea, per non parlare di quanta roba finisce sugli scogli e di quante bottiglie si rompono, i centri storici dell'intero territorio si presentano in condizioni non ottimali. Questo dipende dall'organizzazione e dalla gestione. E conclude, allora, perché non dare seguito alle proprie parole? Perché non installare dei cestini più capienti? Questa è l'ennesima prova di come alle parole non seguono i fatti. Conclude così il consigliere di minoranza Luigi Maurano.